Buongiorno, c'è la seconda partita del training camp, Perna contro Averto e la partita è finita 4 pari, presentatevi Averto, Rania, seconda miglia Come avete giocato? Prima tempo avevo perso 3 a 0, poi siamo riusciti 4 a 4, alla fine errori difensivi, se non sbagliamo potremmo fare di più Che ha segnato? Berrelli, Lanzano, due gol e Rania? Lui, solo lui Tu e chi vuoi dire il gol? Voglio tenere il gol da Francesco Sermiento e Raffaele Liguri Tu che vuoi dire? Niente, dobbiamo ritornare in difesa, è che non ci conosciamo Vabbè, voi presenti Complimenti a Giaversa Presentatevi voi Perna Pasquale Daniele Fiengo Gianavano Ciarino Vincita Stefano Allenatore Golino Chi vuole parlare? Grazie Che ti odio? Male Male proprio Ci mancavano 2-3 giocatori Che erano fondamentali per la squadra E ci hanno affunato Ci hanno affunato Che ha segnato? Un gol e tu a chi lo vuoi dedicare? A lui Grazie Pasquale Poi un gol l'are, due nocerino Che lo vuoi dedicare? La famiglia e la squadra La famiglia e la squadra Che vuoi dire? Io voglio dire solo che abbiamo abbassato la tensione durante il match Però abbiamo giocato bene il primo tempo E ci ha rovinato un po' con lui Il potere Mi ci ha rovinato proprio Mi si buona Mi si buona Mi si buona Mi si buona No, non si buona Che si buona Che? L'allenatore? L'allenatore? Cosa posso dire? Non ci sono una misa a dolenare Adesso non ci sono Adesso non ci sono Adesso non ci si dice Ma parla bene Va bene Comunque non so capendo niente Penny Tu che vuoi dire? Niente Ma Dovremmo venire a fare pure noi Un amiche Quello è una partita Da vedere Noi ti ho dedicato un gol Alle nostre Quelle di tre Vabbè la prossima volta Eh Vabbè 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 Bocca l'uva a tutti e due Siamo alla prossima partita E anche complimenti agli avversari Sono una bella squadra Salute Ciao Martina Ciao Andrea Ciao Robert Ciao